Tra le varie possibilità significa che comunque qualcuno ha scelto te, ha scelto quello che tu vuoi, quello che tu desideri, è stato tra virgolette scelto, ringraziamo anche Barry, ed è molto importante che avvengano queste situazioni, che avvengano queste cose, perché una persona che ti ha scelta, ti ha scelta e tu rappresenti, anche se potrebbero esserci state altre persone, tu sei la prediletta o il prediletto, abbiamo anche l'imperatore, abbiamo anche l'imperatore che ci porta, diciamo, dei risultati di stabilità, quindi direi che è un'ottima stesa questa qua, vediamo ancora che cosa ci dicono i tarocchi, cosa ci dicono i tarocchi delle Sibille, le Sibille di Lenormand.